No ma non metti in pausa Eh no Cosa è sto cambiando in musica? Ha detto Per forza Lasci che l'aiuti Lasci che l'aiuti Lasci che l'aiuti Vai 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 Ecco Per lui ovviamente Sarà nascosto Lei è intrattabile Lei è intrattabile Sì Un po' maleducato in effetti Non ti farei anche malmenare un po' Madonna Cerca di ripostare Oddio come è stato avvicinato Ha bisogno di cure Lascia perdere il portello Gli ufficiali hanno sigillato tutto Usa il condotto Lascia perdere il portello Gli ufficiali hanno sigillato tutto Usa il condotto Trova il codice d'accesso per l'ascensore Di servizio scenderò con te all'ospedale Ok? Codice d'accesso? Sì Posso dirigerti da qui Mi hai evitato la domanda Madre Ma Cioè Scusa 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 Ah lì È lì È lì È lì È un macello Ora è a giro Bene bene Devo solo girare l'arco E arrivare lì Merda! Merda! Oh è qui! Sono fregato E' finita, è finita E' finita Minchia Preparati un razzo, qualcosa L'ho tirato Non mi frega proprio un cazzo di nulla L'ho tirato addosso Perchè non gliel'ho tirato un cazzo Perchè non gliel'ho tirato un cazzo Invece si Invece si, lo sto guardando Guarda M'ha trovato Ma come? E non ho preso bene il fallimento Sono proprio arrabbiato Perchè fermo Lì Sto piangendo Si Nooo Nooo Giro all'ultimo Guardalo eh E? Nooo 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 Oh Nooo 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 Come faccio a uscire da qui? Valla anche le cose Cioè dov'è andare ora? Ho sbagliato il testo Fimi mi sa che la nostra avventura su Alien Isolation finisce qui E' entusiasmante Quando siamo avanti almeno 10 minuti In complessivi di strama Com'è Alien Isolation? Ma... Stretto Io non ce la posso far far sto corridoio Toh, rieccolo E' un casino Toh Aspetta Vabbè L'ho sceso Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Mertoso Ora Ora Nooooo What? Pensavo che fosse collegato Nooo Devo andare di qua Vabbè ma quella? Oddio Devo tornare indietro Di qua che devo andare? Oh Eh 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 Non ч'è sa che ci hotel…. Puttare cando in a window non ho capito, c'ha due porte questo posto non c'è fare tipo t'ho vista dalla finestra no, cazzo sì, vabbè come ci dovrà entrare dal condotto non ti pareva ora come minimo ho perso tempo quindi no, magari c'era un altro passaggio non c'è no, è vero serve solo da collegare che si deve quindi io sono confuso io ora sono veramente confuso e senti un po' di senso se sto da effettivamente la stanza ah dove arriva qui lui mi dispiace non ti posso entrare ah perfetto quindi l'esercizio prezzo perchè lagga cosi Ah sono proprio per le persone queste Questi condotti Dov'è? Oh mio Dio, pensavo fosse entrato lì dentro Dall'altra parte No sei un pezzo di merda 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 Dai cioè non puoi entrare nel condotto E' uscito Ponceondo No 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 non lo fare No 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 no